Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo decimo episodio di Madfather Nello scorso episodio abbiamo scelto il finale buono, almeno quello che io presumo sia il finale buono Abbiamo salvato il nostro padre dalle grinfie di nostra madre che voleva portarselo praticamente all'aldilà Il problema è che con l'ultimo barloom del suo potere nostra madre ci ha fatto sapere tramite un flashback Che il nostro padre vuole trasformarci in una bambola e in questo momento stiamo scappando proprio da lui Ho salvato praticamente davanti a questo corvo e ora immagino che, a parte che è questo corvo, ok, ora si leva Perfetto, è chiusa, merda Oh cazzo, quest'urlo è abbastanza inquietante, cos'è? Oddio, ok, il manichino ci sta proteggendo raga Ha testimonianza che i manichini qua non sono mica tanto Manichini Apri Mi sa che non si apre Non viene neanche fuori il push Ok, Aya torna indietro Ma, scusate, mi sta venendo No, non posso tornare Questa è una motosega, vero? Ok Cazzo Merda Apriti, 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 apriti Oh cazzo Ok, apriti C'è un problema, non si apre E mo? Push, push, push No, merda Ok, corri Corri, 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 corri Cazzo Oddio Cazzo, ma è veloce No, più che essere veloce, ma scatti No No, merda Non si apre Eh, c'è un problema adesso No No Ok, aspettate In alto a sinistro avevo visto un interruttore, raga Ok, perfetto Mi fa ripartire da qua Ah, ma cazzo Non si apre Provoco Corri, corri Ok, perfetto Ok, ok Ce l'ho fatta forse No, no, no Sì, oddio Non ci credo Corri, 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 corri Uh, miracolo Quella è Maria Allora è viva Non era morta Pensavo fosse morta Dove sono? Sono ritornata indietro Dottore Padrona Cioè, signorina Non padrona Perché Maria, non lasciare Aya Non lasciare scappare Aya No, cazzo Corri Oh, se non ricordo male Raga Eh Dato che questo gioco L'avevo già visto Mi pare che Maria Comunque alla fine decide Di stare dalla nostra parte Forse O comunque ci dà una mano Non mi ricordo Ok Perché non ho potuto farlo In tutto il gioco Allora, aspetta Non c'è il corvo Ok Bene Eh Ecco E mo? Che cosa faccio? Eh Ma, tipo Ah E quindi mi stai dicendo che Ok Eh Aspettate Allora Non vorrei Cioè, sinceramente Non vorrei Premere queste cose Perché poi Aspettate Ok Perfetto Tra l'altro Non stavo premendo nulla Raga Stavo premendo il tasto sbagliato Ma vabbè Ok Signore Signorina Dove siete? Dove è andata Aya? Eh Chiedo scusa L'ho persa Perso Vabbè What? Cosa? Mi dispiace davvero tanto Sono sicura Che non può essere andata molto lontano Cerchiamola da qualche parte Tu Merda Ok È definitivamente impazzito Ammazzato pure Maria Cioè Presumo che l'abbia ammazzata Perché Insomma Una motosega Non è che Ok Eh Mi sa che è morta È morta male Ok Ok però Che cazzo hai detto? No merda Ok Allora Proviamo a parlare a Maria No è ancora viva No Non può essere ancora viva Dottore Eh Ho capito Ok Merda Cosa sta dicendo Questo raga Cosa sta dicendo No cazzo Corri 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 Ma cazzo No No ok Perfetto Sì Cosa? Chi sei? Cosa Cos'è sta roba raga E cosa ridi? Vieni con noi No è giusto Oh merda È finito il gioco Aya Devo Devo mantenerti in questo stato Non è vero? Lasciami andare Non voglio farti del male Aya Sarebbe un peccato No fermati papà Potrò coprire le tue gambe Con una gonna Abbastanza Facilmente In questo modo Dovrebbe andare tutto bene Non voglio questo Voglio stare con papà Io ti amo papà Per piacere Smetti da Aya Non ti preoccupare Papà e Aya Staranno sempre insieme Riposa in pace No dai Non può finire così Ti amo Merda Non finisce così Merda No dai Non può essere Era il bad ending Non ci credo No E non può essere finito così È il momento di dormire No Non può essere finita così Raga Io no Mi sa che era il bad ending Questo No Non è possibile Buonanotte Aya Non ci credo Era il bad ending Ma non c'è davvero possibilità di E no È sempre uguale Non ci credo Ma allora il good ending Era quello della madre Raga Per forza Eh per forza Raga Però non ha senso Così Scusatemi eh Che senso ha C'è No Non può Non può essere No Secondo me c'è un modo per Dai Non ha senso Una cosa del genere Ho fatto tutto un gioco Cercare di salvare mio padre Come fa a essere il bad ending Questo Boh raga Mi sa che è il bad ending A sto punto Però Boh Questa Questa cosa qua Mi ha un po' deluso Sinceramente Boh Eh raga Niente Bad ending Non so cosa dire Non Veramente Non mi è piaciuta Sta cosa Non la capisco Più che altro Perché Abbiamo fatto un intero gioco Cercare nostro padre E il good ending A regola Sarebbe dovuto essere Salvarlo Io sinceramente Mi aspettavo che Dopo aver salvato Nostro padre Nonostante ci Cercasse Di trasformare In una bambola In qualche modo Ne saremo usciti C'è tutto questo Per niente Sono scappato per niente Raga Secondo me è impossibile Una cosa del genere Anche perché Io ricordavo Un finale diverso C'è Nella mia mente Io riuscivo a scappare C'è Sapevo che Comunque Non lo so Raga E Boh Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Datemi dei consigli Sicuramente andrò a provare A fare gli altri finali Questo per forza Ci sono rimosso male Effettivamente Perché non avrei mai pensato Che finisse così Ma vabbè raga Cosa ci devo fare Niente in sostanza Quindi spero Che questo video Vi sia piaciuto Scrivetevi Mi raccomando Nei commenti Qualche consiglio Perché io Lo trovo Insensato Io non Penso Che quello Fosse il bad ending Ma non lo penso Perché non ha senso Questo gioco qua È stato bellissimo Fino adesso Non può finirmi così Quindi scrivetemi Nei commenti Qualche consiglio E poi tra l'altro Andrò a riprovare Fra un po' di tempo Il finale Cercando di Accontentando il desiderio Di nostra madre Cioè lasciando Che si porti via Nostro padre E vedremo anche lì Cosa succederà E niente Spero che appunto Vi sia piaciuto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci becchiamo In un prossimo video E noi ci becchiamo Grazie a tutti